Pronto Carlo? Sì, sono Tommaso, reparto qualità per la festa dell'ufficio. Pronto? Pronto! Pronto Elisa? Ciao, sono Tommaso, reparto qualità, il capo... il project manager Elisa. Era per i soldi della festa dell'ufficio. Scusami un attimo, chiedi se hai dei contatti. Ma chi? Cosa? Lei? Ma sto organizzando la festa dell'ufficio, mi servono i soldi. Dille che è un rapporto win-win. Win-win? Win-win, te la spiego dopo. Win-win. Ma che devo fare? Il fa? 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 No! Lo sono qui! Il fa? 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 qualche progetto che spesso è a scopo sociale o culturale, sicuramente non a scopo di lucro, quindi l'azione del fundraising è un'azione rivolta agli enti del terzo settore, principalmente quelli culturali, quelli sociali e anche gli enti pubblici. Va da sé che il fundraiser è colui che pratica il fundraising.